Domani abbiamo una partita importante contro un avversario che anche nell'andata ci ha creato difficoltà, contro un avversario che crea difficoltà tattiche e tecniche a tutte le squadre, quindi abbiamo in campo una prestazione importante. Io ho sempre creduto al di là delle nostre qualità singole e chiaramente Zlatan è il nostro campione, il leader deve essere il nostro gioco, il leader deve essere il nostro modo di stare in campo e lo abbiamo dimostrato domenica sera. La squadra ha giocato con convinzione, ha giocato con volontà, con spirito, con qualità. Se giochi così, poi dopo abbiamo le qualità singole, anche senza Ibre, anche senza Ciala, di giocatori che possono determinare la partita, perché Leao, perché Rebic, perché Dias, perché Salemarcas, Castigliego, che sì, sono tanti, Teo Hernández, sono tantissimi giocatori che possono anche trovare la giocata vincente, ma dentro uno sviluppo di una gara, di una squadra che vuole tenere bene in campo, vuole fare la partita e vuole continuare a essere pericolosa. Noi non dobbiamo fare la corsa su nessuno, dobbiamo fare la corsa su noi stessi, dobbiamo cercare di dare continuità alla bella prestazione di domenica, dobbiamo cercare di vincere le più partite possibili da qua alla fine, di giocare il calcio che ci piace. Siamo stati soddisfatti della prestazione di domenica, soprattutto perché abbiamo giocato la partita per le nostre caratteristiche, per i nostri concetti. Poi dopo, ripeto, adesso arriva il momento comunque decisivo per la stagione, perché da marzo a maggio poi si decidono le posizioni finali, si decidirà l'Europa League, quindi adesso stiamo concentrati sulla prossima gara, cerchiamo di ottenere il massimo da qua alla prossima sosta, e poi dopo vedremo un po' che posizione saremo. Le due settimane delicate che abbiamo passato ci sono servite per rimettere a posto alcune situazioni, per rivedere certe posizioni in campo, per rivedere anche un atteggiamento diverso, e la squadra è stata molto brava a non farsi, a non essere depressa dopo delle prestazioni non ad altezza, ma a credere in quello che stavamo facendo e rimettere in campo le nostre abitudini. E questo credo sia stata la cosa più importante. Abbiamo vinto una partita perché abbiamo giocato da Milan, perché siamo stati convinti, siamo stati attenti in tutta la partita, c'è stato un grande spirito di gruppo, abbiamo sbagliato anche tante situazioni, ma con lo spirito, con la volontà, poi abbiamo cercato di sistemarle, quindi dobbiamo assolutamente continuare così. Secondo me abbiamo la possibilità di dimostrare che la cosa straordinaria sono state le due settimane particolari, le due settimane delicate, dove non abbiamo giocato all'altezza, non la prestazione di domenica, perché è un anno e qualche mese che giochiamo a certi livelli, quindi è stata una sorpresa non riuscire a giocare ai nostri livelli, soprattutto nelle due partite di campionato, ma ci può stare, ci può stare quando una squadra spinge così tanto, quando una squadra gioca così tanto spesso, quando una squadra che non è abituata a mantenere certi ritmi, certi livelli può calare un attimino, ma adesso noi dobbiamo dimostrare di poter essere quella squadra straordinaria che sta facendo un percorso sicuramente di crescita importante, che può giocare tutte le partite con grandi possibilità di vittoria, quindi non pensiamo né a domenica scorsa, né le due settimane più difficili del campionato che abbiamo vissuto, né tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, perché poi sarà determinante quello che riusciremo a fare da domani, da qua a fine campionato e a fine Europa League, quindi concentriamoci su questo e dimostriamo le nostre qualità, e domani abbiamo un'altra opportunità per farlo. E domani abbiamo un'altra opportunità per fare da domani,